Noi proponiamo tanto per cambiare la responsabilità, ma come si fa a dire che in 600.000 devono prendere e tornare via? Noi siamo quelli che pensano di dover bloccare questi flussi e mi sembra che il nostro ministro Minniti e le nostre misure lo abbiano fatto in questi ultimi mesi. Adesso abbiamo veramente pochissimi sbarchi, stiamo cercando di attuare le politiche in Africa, in Libia, in modo tale da poter bloccare e da far rimpiatriare dalla Libia, supportandoli quei soggetti che hanno tentato di iniziare il loro percorso verso l'Europa. È evidente che c'è bisogno anche lì di un percorso, di un cammino. Noi abbiamo quadruplicato i nostri interventi sulla cooperazione internazionale, abbiamo attuato una serie di misure che in modo serio stanno cercando di bloccare questo fenomeno, che non piace a nessuno, non è che ce lo deve venire a dire Salvini. È evidente che ci sono dei passaggi che sono insopportabili un po' per tutti, ma è evidente anche che non c'è un'invasione, ma che dobbiamo con calma cercare di gestire nei territori quello che le persone che stanno purtroppo ancora arrivando e che devono essere comunque integrate. E allora ci sono dei percorsi di integrazione già attivati in tante parti d'Italia che possono essere duplicate in altre parti d'Italia. Allora con tranquillità bloccare i flussi e lo stiamo facendo, mi pare, e naturalmente proseguire con le politiche nei confronti dell'Europa in modo tale da farsi supportare. Certo, se si dice e se si continua a parlare in modo sbagliato degli accordi di Dublino firmati dal presidente Berlusconi, allora e non si sa neanche di che cosa si parla, ecco che le cose cominciano a diventare davvero difficili. Noi siamo per far prendere a tutti le proprie responsabilità nei confronti di questo fenomeno, che è un fenomeno storico, epocale, che si deve affrontare con saggezza.